Benvenuti in questo mio nuovo video Oggi sono qui insieme a voi per cercare di non toccare il colore nero su Roblox Ora, iniziamo La strada è nera, quindi non posso toccarla Voglio provare ad andare nella mia estate Ma la linea qui di bianco è troppo sottile Quindi deciderei di prendere un veicolo che non sia nero Credo questo Spero che non ci sia il nero, a parte le ruote che vabbè sono difficili da toccare Non credo che le toccherò Ok, perfetto Andiamo nell'estate Mi parcheggio E una volta accesa non ci dovrebbe essere più il colore nero Bene ragazzi, ora sto tornando al centro in gelateria precisamente Ma se vi ricordate bene, dall'ultimo video in cui non dovevo toccare il colore bianco Il pavimento della gelateria sia bianco sia nero Quindi non devo toccare il colore nero Qua ce la potrei fare saltare Ma metterei sempre il lettino a terra Così Metterei il lettino qui Dopodiché Vado sui props E metto una tenda Che non si avverrà naturalmente Quindi questa qui Ok Ora posso toccare il pavimento della tenda ovviamente E devo andare solo sulle mattonelle bianche Ok Aiuto Provo a toccare così Uh Ok ok Perfetto Perfetto Prendo un gelato Qualsiasi E ora sto un po' al centro Ok Non devo toccare qui Ok Qui non devo toccare Sempre attenta Non toccare il nero Questo video è finito Io spero proprio che vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdervi nulla Ciao